Siamo partiti, puoi parlare adesso, parla. 1, 2, 3, ciak, parla. Allora, per farvi capire il filmato di prima, che... Quello del terrore, il filmato del terrore. Quasi il film dell'orrore, proprio il film dell'orrore, proprio il panico più totale, è perché il signor Pavanti mi ha fatto fare questa roba qua. Questa roba qua, cioè che è una roba veramente... guardate. Sì, ho capito. Praticamente sono ben 70 metri di dislivello per andare in cima al coso. Dovete capire che io salgo... Praticamente come salire dal secondo al terzo piano del mio castello. Cavolo, che questo deve fare proprio prima donna, deve essere sempre... Allora, il problema... Prima donna. Avete capito perché lo amo tanto, perché è proprio nostro, è proprio principe, no? Ma se ti porto a vedere le capitali europee, ti porto a vedere le capitali europee e anche ti lamenti. Allora, il problema è perché io ho fatto tutto sotto, 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 qua. Allora, guarda che sta scendendo, scende, 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 vedi? Vedi che scende là dietro? È che io soffro di vertigini e anche salendo su una scala tipo di tre scalini, tre, io c'ho... Poi erano 300 scalini, invece di farli in sei ore a piedi, li abbiamo fatti in 18 secondi con l'ascensore. Meglio di così, dai, dai, andiamo a fare spese, andiamo a vedere i mercatini. Però sono stata bravissima, vero? Quello sì, quello sempre, sempre bravissima. L'ho quasi preso per... Hai il taccuino, dai, dai che devi comprarmi le mandorle adesso. Ciao! Ciao! Vabbè, ciao! Ciao!